Anche l'arbitro della sezione AIA di Sala Consilina, Ivan Robilotta, e il suo collega della sezione di Tivoli, ma originario di Teggiano, Fabrizio Pasqua, sono stati sospesi dall'attività tecnica in via cautelare a seguito dell'indagine della FIGC sui rimborsi spese gonfiati. Si tratta di un'indagine interna avviata dopo una segnalazione e relativa ad alcune anomalie individuate nella rendicontazione dei rimborsi spese. A finire sotto la lente di ingrandimento e sottoposti dunque a sospensione, sono stati in tutto tre arbitri di serie A e quattro assistenti. In attuazione dell'obiettivo della massima trasparenza associativa, si legge in una nota dell'Associazione Arbitri, la nuova governance dell'AIA ha avviato audit interni, amministrativi e contabili sulla conformità dei rimborsi spese erogati per attività tecniche e associative. All'esito di tali controlli riscontrate delle incongruenze contabili nella compilazione dei rimborsi spese redatti da alcuni associati, la Presidenza dell'AIA ha inviato tutta la relativa documentazione alla Procura federale della FIGC in data 21 aprile scorso. Nell'emore della conclusione delle indagini federali, tutti gli associati coinvolti nella vicenda sono stati sospesi dall'attività tecnica in via cautelare. La vicenda ha avuto una vasta eco nel Vallo di Diano, visto il coinvolgimento di due fischietti del territorio particolarmente apprezzati per i grandi livelli raggiunti e i risultati ottenuti in carriera.